Ebbene qui sappiamo chi ha vinto Io ringrazio di nuovo Nel frattempo che la giuria si accomoda per salire dietro nel palco Giurati, Giulio, Giuliano, Nicola Allora, mi riservi a un microfono Ce l'hai tu, Giorgia, al microfono Prima vorrei però fare un omaggio C'è un omaggio a tutte le partecipanti Omaggiate dalle spa di Bione Eccola qui E anche da l'azienda Jaffra Perché rimanere belle è possibile E bisogna scoprirlo con l'azienda leader del territorio Con Jaffra Che ha la costante ricerca della tecnologia Per rimanere sempre belle Allora, partiamo dalla quinta classificata Conna 109 voti Prende la fascia di Miss Coraya Giuliano, faccio premiare a te per il food Vieni Numero Rullo di tamburi No, lo mettiamo Si dai, rullo di tamburi La numero 14 Asia Scarpa E viene in finale con noi Fai la passerella Asia Proseguiamo con la seconda Scusate, la quarta classificata Miss Mima premia Laura Paparella Per l'azienda Con 110 punti e mezzo Quindi con un punto e mezzo in più Ti classifica Miss Mima La numero 13 Anna Cantona Ben arrivata Anna Anche per te il biglietto della finale La passerella anche per te Anna Proseguiamo con la terza Classificata Miss Mastinada Premia Io vorrei Maria Zanzico Qui sul palco Di Zanzico Conciatori Con anche qui solo un punto e mezzo In più ragazze Quindi siamo a 112 voti Si classifica Miss Mastinada Bibione Numero 8 Beatrice e la Monica Andiamo con la seconda Classificata Miss Acquafollie Premia Nicola La finale del 9 settembre Al Casino di Venezia Adesso Flavio Togli sta musica Che non ho più voce Mettiamo questo lullo di tamburi Proprio in suspense In sostanza Eccola qua La corona Lo scettro Dov'è lo scettro? Vieni 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 Giorgio Venite qua davanti Ragazze Lasciate spazio Una di qua Una che resti di là Sennò facciamo troppi Siete pronti con gli schioppetti? Premia Giulio Vieni Giulio Prendiamo il microfono Salutiamo Vieni Guadagniamo il palco Spegne l'uno di tamburi Perché dobbiamo salutare il pubblico È stato un onore Anche per la casa Io ringrazio di nuovo Bibione Terme Grazie Che è con noi Forse penso per la terza Se non quarta volta consecutiva Oggi ci siamo divertiti davvero tanto Mi fa piacere Salutiamo e ringraziamo anche il direttore Dennis Infatti contiamo i saluti Della parte della presidenza Della presidenza anche Della direzione Di tutto lo staff di Bibione Terme È sempre un piacere essere qui Insomma In bocca al lupo Alla fortunata Tu la tua L'hai già individuata Penso sia tra le papabili Sì Dici che sia lei È la vincitrice È lei o non è lei Credo di sì Credo di sì Credo di sì Con un sondaggio in giuria Hai fatto un sondaggio Devo dire che ha vinto solo per mezzo voto Giulio Per mezzo voto si porta a casa la corona Rullo di tamburi Vince La tappa Il misteris bici di Pione Va in finale Va in finale con tutte le altre quattro fasciate Con 118 voti e mezzo Vince la fascia di Miss Bibione Terme La numero 10 Te intervisa vintare Uuuuuh! 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 Il simulata Vai, Denisa! Vai, Denisa! Siamo arrivati al prossimo anno o alla prossima tappa che si trova a Sottomarina a Chioggia. Queste sono le altre cinque finaliste che parteciperanno alla grandiosa finale serata di gala del 9 settembre a Cavendrami in Calergi. Io vi aspetto. La prossima tappa ci trasferiamo a Sottomarina il 27 di luglio. Vi aspetto in Piazzale Italia e staccheremo il biglietto per altre quattro concorrenti che arriveranno in finale. Ciao! Ciao, sono Denisa Pitea, io sono Miss Vivione Terme e per Miss Benisbici.